buongiorno buongiorno a tutti bentornati a una nuova puntata di Biblioboom ciao Francesco buongiorno buon pomeriggio buonasera boh sai il podcast qua lo lo guardano lo sentono lo ascoltano lo vedono lo vedono perché abbiamo deciso di metterci la faccia qualche anno fa oramai qualche anno fa o sta invecchiando anche come podcast un man diciamo Elias te lo voglio dire più o meno da quando si è partiti con la radio tre anni due anni e mezzo tre o quattro anni tre o quattro anni che abbiamo vabbè però devo dire che ogni volta è un piacere è sorprendente sorprendente perché ci giochiamo spessissimo delle meravigliose carte come quelle di questa sera Elias assolutamente assolutamente questa sera ci occuperemo dei più dei più piccoli per davvero oggi stasera parleremo del progetto nati nati per leggere abbiamo due ospiti che però faccio presentare a te perché so che vi conoscete molto molto bene allora sì però io vorrei presentarle in presenza visto che finora eccola qua Alice e Beatrice ciao 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 a tutti l'ho dito perché Elias mi prende in giro che uso spesso la parola meraviglia però stasera devo dire che è veramente meravigliosa guarda come cambiano i colori di questa inquadratura noi due sembriamo dei poverini guarda poi guarda arriva colore luce gioventù e giovinezza assolutamente io dalla prima puntata che sto litigando con con le lampade anch'io le ho provate tutte però allora non è più una questione di lampade ma sicuramente è una questione di generazione dai diciamo così giochiamocela così Beatrice e Alice due fantastiche bibliotecarie Beatrice è un adulatore fantastiche bibliotecarie perché veramente io ho il piacere di lavorare insieme a loro per un pezzettino del immagino nostro lavoro no ognuno di noi poi ha la sua biblioteca però facciamo questa cosa meravigliosa insieme con nati per leggere che non è solo nell'osservatorio adesso poi ne parliamo no però con queste due bibliotecarie ci incrociamo spesso anche qualche giorno fa perché diciamo che hanno veramente la testa su nati per leggere e vabbè facciamo parlare un po' loro così ci dicono dove lavorano e cosa fanno a a come Alice inizio io ciao a tutti buonasera io sono Alice Favaron bibliotecaria di CSBNO lavoro sulle biblioteche dell'alto milanese e mi occupo ormai da un po' di anni di nati per leggere delle attività di promozione alla lettura per per i bambini e collaboro con Beatrice all'interno della redazione di nati per leggere lombardia boh come Beatrice siamo proprio perfette allora io sono bibliotecaria lavoro a Concorezzo invece che si trova all'interno di cubi come sistema bibliotecario e faccio parte appunto anch'io come Alice della redazione di nati per leggere lombardia faccio anche parte con Francesco dell'osservatorio editoriale di nati per leggere e niente siamo tanto onorate di essere qui stasera nulla anche siamo veramente qua oggi siamo felici noi che portiamo anche nati per leggere nel nostro podcast Alice prima quella più semplice Francesco giusto per per entrare proprio nel sull'artamento però ti posso interrompere un secondo perché Alice prima ha preparato un jingle iniziale legato alla lettura e al libro io ti propongo Alice di lanciarlo la lettura è rassicurante ah no i libri sono rassicuranti vai Elios con la tua prima domanda Beatrice no la prima domanda era molto semplice era per per spiegare a chi ancora non lo sapesse che cos'è nati per leggere era proprio la domanda più banale più semplice a chi vuole buon come Beatrice va bene allora nati per leggere è un progetto che è diffuso su tutto il territorio nazionale ormai da tantissimi anni 1999 era data di inizi di questo progetto è un progetto che nasce dalla rete tra l'associazione italiana biblioteche il centro per la salute del bambino e l'associazione culturale dei pediatri italiani ed è diffuso nelle biblioteche negli esili nidi nelle scuole dell'infanzia viene porto avanti nei reparti pediatrici in consultorio se ne parla dal proprio pediatra di famiglia ed è un bellissimo progetto che ha come obiettivo come obiettivo quello di stimolare sostenere i genitori in un'azione specifica quella di leggere ad alta voce una lettura condivisa con il proprio bambino fin da subito fin da che i bimbi sono nati ovviamente ci sarebbero tantissime cose a dire su questo progetto però Alice ci può un po' come dire raccontare delle azioni che non devono per forza essere azioni prese da organizzazioni grandi ma anche quelle che spendiamo ogni giorno noi piccole o grandi biblioteche nella nostra regione certo è proprio l'idea di portare la lettura in famiglia l'importanza della lettura in famiglia per quelle famiglie con bambini in età prescolare e in realtà quando i bambini ancora non sono nati perché in realtà la lettura è importante ancora prima quindi sì poi le azioni sono anche azioni semplici l'idea comunque di diffondere l'idea di quanto sia davvero importante la lettura il libro all'interno del nucleo familiare la lettura come relazione come momento di contatto che permette poi tutta una serie di benefici grandi proprio sullo sviluppo del bambino proprio nell'ambito della salute del bambino e questa è un po' la novità poi ordinati per leggere accomuna tutte e tre me, Beatrice e Alice un progetto editoriale che è quello della realizzazione del come lo vogliamo chiamare lo vogliamo far vedere ce l'abbiamo? sì, sì ce l'abbiamo due copie la guida la guida nazionale che esce proprio con grazie ad IB che la edita è nati per leggere e lì adesso arriviamo da un come dire da un tour molto veloce a marzo è stata presentata però abbiamo fatto un anno più verso la fine dell'anno una un lavoro pazzesco perché sono stati presentati oltre mille e quattrocento pensati oltre mille e quattrocento libri e poi comunque la selezione che andava ognuno di noi a giustificare il perché di questo libro e devo dire che in questi momenti di redazione eccezionale è fantastico perché ognuno arriva con delle parole eccezionali rispetto al libro alla pubblicazione all'autore al senso e al valore del libro all'interno di un percorso nati per leggere è vero è vero quello che dici Francesco e perciò chi vuole iniziare un po' a raccontare della nostra meravigliosa guida ma magari inizio io raccontando chi lavora alla guida quindi l'osservatorio editoriale di nati per leggere allora il lavoro innanzitutto questa guida ha come periodo di riferimento il bienio 21-22 quindi i libri che trovate all'interno sono libri pubblicati in questi due anni chi lavora alla ricerca dei titoli da inserire nella guida sono bibliotecari bibliotecarie sono pediatre esperti ed esperti di letteratura per l'infanzia pedagogiste libraie quindi un universo piuttosto variegato molto bello e molto interessante anche per questo siamo all'incirca 36 se non sbaglio da tutta Italia e il lavoro che è dietro è un lavoro grande molto importante perché è un lavoro continuo di ricerca all'interno dei cataloghi degli editori italiani ma anche stranieri e poi è un lavoro invece collegiale di critica di valutazione di selezione per arrivare poi a una rosa di titoli e i numeri sono sono abbastanza importanti Alice forse hai sotto mano i numeri ecco la donna dei numeri diamo i numeri no alla fine comunque questo grande lavoro di ricerca di selezione di analisi ha portato poi a una guida estremamente ricca sono comunque 285 libri che vengono citati all'interno della guida quindi sono tanti sono 285 libri per 69 marchi editoriali quindi una guida che è molto ricca che ci dà un sacco di spunti perché un po' la parola chiave noi andiamo dire che è quella di bibliodiversità cioè offrire tanti spunti tanti tante idee diverse ai genitori e poi anche i bambini in modo che poi sostanzialmente sviluppino il loro gusto quindi davvero una serie di spunti molto variegata poi è chiaro che la guida è organizzata ci sono anche delle indicazioni di età vicino a ciascun ciascun libro ed è come viene poi sottolineato all'interno della guida un'indicazione di età che però deve essere presa in modo flessibile perché poi la chiave è quella dell'osservare i bambini perché poi ogni bambino ha i propri ritmi e ha i propri tempi quindi diciamo un po' l'osservazione attraverso la quale poi possiamo realmente capire quali possono essere i libri più adatti ai bambini e oltretutto la guida riunisce questo grande insomma ventaglio di proposte poi in cinque sezioni per citarle prendo i miei appunti prima e dopo la nascita con tutti i sensi alla scoperta del mondo la musica delle parole e viaggio tra le storie che è poi la sezione più corposa perché insomma le storie sono tantissime di tutti i tipi e di tutti i generi questo ah no scusami no 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 vai bene volevo solo dire che accompagniamo da meno nove mesi cioè da impange io sono d'accordissimo con quello che dicevano prima Beatrice e Alice da meno nove mesi fino a sei anni andiamo a cerchiamo di inserire l'elite dell'editoria l'editoria in questo caso 21-22 che devo dire questa luce sono dei titoli meravigliosi vai Bea no sì no volevo solamente fare una precisazione la sezione delle storie ad esempio di cui parla Alice è una sezione molto ampia perché comunque la guida un po' riflette il panorama editoriale italiano i libri di storie sappiamo che sono i libri più pubblicati così come ci sono tanti libri sulla natura perché è un argomento che sta tirando la grande nell'editoria oppure non so la sezione dedicata ai bambini appena nati è una sezione meno corposa perché si pubblica meno oppure ancora ci sono tantissimi libri che sono questo mix tra divulgazione e poetici che prima non c'erano non esistevano quindi la guida riflette un po' quello che è il mercato editoriale italiano e questo è un aspetto molto interessante per in considerazione quindi anche l'attualità poi dei testi che vengono pubblicati e vengono proposti vabbè sulla guida potremmo raccontare un sacco di cose però Helios ci rivolgiamo a te che sei l'unico che diciamo non è nel mondo dei più piccoli diciamo che è fondamentale avere degli strumenti e la guida è uno strumento perché è fatto da persone che lavorano intorno a questo mondo che si occupano di bambini in questa fascia d'età che vivono realtà che promuovono la lettura per questa fascia d'età e allora diciamo che ci sono dei personaggi tipo Alice Beatrice e anche altri che hanno dato veramente un contributo rispetto a a quelli che sono i libri belli che funzionano perché poi ad un certo punto li sperimentiamo con la nostra con i nostri utenti piccoli utenti attraverso le giornate attraverso i momenti attraverso gli asili nido le materne i primi anni della scuola elementare insomma questi libri diciamo che sono rodati già ma che hanno tutte le potenzialità per poter diventare uno strumento fondamentale per chi lo legge ma io quello che volevo chiedervi a a tutti e tre perché capita molto spesso alla biblioteca di Sesto San Giovanni a quella dei ragazzi sentire le mamme che dicono ah ma come leggi bene Francesco i bambini stanno è vero dai non fare il modesto ma quindi la domanda è questa com'è che che bisogna leggere ai ai bambini ai bambini così piccoli perché come dicevate prima bisogna anche saper leggere bisogna avere anche una delle competenze poi ovvio da genitori poi spesso e volentieri si impara a essere ai genitori non è che si hanno tutte queste competenze però ecco se si potesse dare qualche consiglio su come leggere ai più piccoli ai più piccoli ma io credo che una parola chiave sia coinvolgimento cioè una cosa che mi capita spesso di dire magari alle mamme ai genitori in generale che non è una performance cioè di non pensare di arrivare e fare la lettura animata della vita lo spettacolo teatrale non è quello infatti spesso si parla proprio di lettura a bassa voce più che ad alta voce è il coinvolgimento cioè se infatti una cosa che anche dico è di scegliere un libro che poi ci piace che piace anche a noi che quindi possiamo leggere con voglia con piacere e divertirci perché poi quella secondo me è proprio il massimo per rendere davvero una lettura bella il momento di relazione quindi il coinvolgimento della lettura questo è un po' il mio suggerimento sì l'altra cosa che possiamo dire è anche questa che ai bambini piace il libro perché perché piacciamo noi nel senso che è una cosa conseguenziale se a me il libro piace lo leggo con passione lo leggo con piacere di conseguenza piacerà al bambino e poi non dimentichiamo che al bambino piace la voce dei suoi genitori piace la voce della sua mamma e la voce del suo papà quindi non c'è bisogno di avere delle capacità non bisogna fare un corso di lettura ad alta voce per leggere al proprio bambino assolutamente no basta tenerlo vicino a sé il contatto è una cosa molto importante il contatto fisico perché rassicura perché è un segno di affetto e poi partire per avventure storie anche perché va bene è successo a me penso che sia successo a qualsiasi genitore e poi capita magari lo stesso libro di leggerlo quel milione di volte la domanda mi viene posta sempre ma come facciamo a leggere un libro dico per i vostri bambini il più grande lettore è la mamma o il papà a volte i nonni però i più grandi sono la mamma e il papà perché c'è tutta una storia di stare insieme di contatto di sentimento di voce che già conosco da prima che io nascessi insomma c'è tutta una serie di cose che vengono ad amplificare questo momento l'unica cosa che io veramente rinforzo sempre nel senso ogni volta che becco genitori che poi ti danno valanghe di domande dico che quel momento sia solo anche di 5 minuti ma deve essere il momento privilegiato dove io non sono col libro il bambino in braccio e il mestolo che giro il sugo perché fra un po' devo mangiare no e 5 minuti e quei 5 minuti devono essere privilegiati devo creare delle routine e tra le routine metto il libro non a quell'età più siamo piccoli più la forbice dell'attenzione si riduce perciò bisogna avere la pazienza di poter aspettare quella che poi le attese per i bambini e la potenzialità di poter ascoltare di più le storie perciò è fondamentale questa cosa qua trovare dei luoghi adatti è una cosa molto importante spesso a me capita di mamme e papà che raccontino che la lettura non funziona ma la lettura viene fatta in un contesto in cui ci sono televisori accesi tantissimi libri che poi diventa quasi distraente avere troppi libri sotto mano meglio pochi i giochi in mezzo al tappetone genitori che si scoraggiano perché i libri vengono messi in bocca perché vengono lanciati invece fa parte del processo assolutamente allora purtroppo tengo anche il tempo e abbiamo un minuto abbiamo sforato di cinque ve lo voglio dire stasera è volato il tempo era da andare avanti fino a lì però purtroppo siamo già a venti non siete le uniche funziona sempre così se volete richiamarci siamo disponibili Alice è sbeatrice che si offre se ci date l'ok noi veramente la chiacchiera rispetto anche a dei libri perciò come chiudiamo questa meravigliosa avventura di Biblioboom con Nati per leggere con il vostro librio più bello da consigliare vabbè io li sto già non più bello quello che più secondo voi può essere spendibile da genitore sono tantissimi oh mamma Beatrice uno se vuoi ti consiglio l'animale chi ha il coraggio chi ha il coraggio che stai viaborando edito da minibombo chi ha della minibombo assolutamente Bea beh io questo invece qualcosa per i più piccolini quelli di Lashbay la nanna la pappa sono quelli belli anch'io do un consiglio che non è una un titolo ma è una un modello di libro 0 6 6 mesi 0 12 diciamo sono i libri fotografici e quelli che un tempo si chiamavano i librotti adesso ci sono delle evoluzioni fantastiche dove il bambino inizia veramente a fare le prime analogie tra quello che vede e mangia e quello che magari vede raffigurato nel libro perciò è catturato e poi non dobbiamo dimenticarci dei libri per i piccoli quelli appena nati 4 mesi 5 mesi che sono i libri in bianco e nero vero con sfondo bianco è il disegno il colore nero il cavallo nero la forma nera o al contrario io posso dire quello che è un po' un po' vecchiotta all'età non so neanche che età abbia un grande classico che era il bruco mai sazio quello è uno che ho letto lo utilizziamo tutti sempre almeno una volta alla settimana e lo assicuriamo grazie Beatrice grazie a voi è stato bellissimo e sicuramente alla prossima Elios chiudiamo quasi in tempo e ringraziamo Beatrice e Alice grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti